Musica E ciao ragazzi e benvenuti in questo video, bentornati qui su Fortnite, nuovo episodio in singolo Pronti ad andare all'azione, vi sto caricando questa partita dopo l'episodio di Wreckfest che c'è stato alle 12 che se non avete visto andatevelo a vedere Lo sto caricando comunque alle 14 insieme all'episodio di Wreckfest perché comunque non volevo posticiparlo troppo anche perché altrimenti dopo sarebbe andata troppo per le lunghe Avendo comunque altri magari file di Fortnite da dover caricare Quindi vi invito a lasciare un like di supporto per la partita che state per andare a vedere Vi ricordo prima di cominciare sempre pagina Instagram che trovate il link in descrizione, il banderino tattico che compare Che vi dice qual è il nome del profilo da andare a seguire Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Fortnite Per il momento però vi lascio all'azione con questo episodio di Fortnite Buona visione E io scendo faccio un'altra gente E io scendo a tu metto A tu metto si trova gente E io scendo a tu metto Porca troia ho già avuto delle disabilità Massassi e due Meno male che erano più scarsi da me Porco schifo Porco schifo E io scendo a tu metto Ok già a si due abbiamo recuperato un po' la disabilità di prima Non c'è qualcosa Aspetta però fammi così va E' bene fammi via Allora vediamo un po' che cosa ci può offrire la casa Se ci può da qualcosa di interessante Tanta non approfittiamo La un po' disarrediamo Facciamo un po' di legno Sfruttando ciò E' un po' che si trova interessante Tanta Sto catarro oggi mi sta A distruggere E' il check check è buono Check check è buono Le disangente Non mi dite un cazzo Ma io muovo più subito Meglio io che gli altri Sinceramente preferisco fare così Non mi chiederete perché Ma preferisco fare così Almeno stavolta preferisco fare così Listo Ok Ok Parco Dio Quanta roba c'aveva questo Frà Dio Dio Stavigario Fratello Dio Dio Sfruttando ah vabbè dai questo non ero neanche un granchetto mutiamola al volo oh attacca blu attacca blu è buono attacca blu è buono ok dai oh anche laggiù c'è del loot eh fratello mio ok 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 Grazie a tutti No, ho buttato lo scarro, sono un pazzo Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi Ovviamente lì c'è ancora qualcuno Ma è fuori zona Quindi comunque si deve avvicinare Ah no sta qua sotto Il pezzo io no Come fa che me lo fa creare Tagliare Tagliare Non è entrato un colpo con lo scar Non è entrato un colpo con lo scar Ma tu ti rendi conto Non è entrato un cazzo di colpo Ma porco Ciao 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 Ciao